Io non sono un organo... Aldo Di Giacomo ha incontrato questa mattina il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone per chiedere formalmente un impegno da parte della politica finalizzato alla salvaguardia degli automobilisti e quindi ad ottenere azioni che puntino all'inserimento sulle strade principali della regione di autovelox e dissuasori di velocità. Sono una miriade di incidenti mortali e il tratto di strada che va da Termola e Isernia ce non ha dei presidi fissi di controllo della velocità. Allora i controlli della velocità sono essenziali e utilissimi in questo caso perché la maggior parte degli incidenti è dovuto all'eccesso di velocità. Le nostre strade poi non permettono di poter cedere nella velocità per questo presidi e due dissuasori sono assolutamente importanti. L'intervento di Aldo Di Giacomo nasce a seguito anche dell'ultimo incidente stradale accaduto lungo la stradale 17 nel quale ha perso la vita un giovane di 19 anni e un uomo di 77 ambedue di Boiano. Soltanto l'ultimo di una scia di sangue che frequentemente torna a riempire pagine di cronache e a spezzare cuori di famiglie. Da qui il suo appello alla politica perché faccia qualcosa e faccia presto come è accaduto per esempio, ha detto, lungo la Telesina sulla quale dopo riunioni tecniche che hanno coinvolto anche la prefettura si è deciso di regolamentare la velocità con il limite di 80 km orari e pena le sanzioni elevate con l'uso degli autovelox. Intervento, che ha detto sempre Di Giacomo, ha permesso di ridurre di molto incidenti e morti lungo quella strada. E' la cosa che più mi dispiace perché nessun movimento politico, nessuna associazione si muove in tal senso. Il mio invito è a sollecitare questo ma soprattutto l'invito al mondo della politica a farsi carico di questo perché in quelle macchine in cui ci sono i morti a volte potrebbero capitare anche qualcuno di loro.